Metastasi del retinoblastoma Il retinoblastoma è il tumore primitivo intraoculare più comune nell'infanzia, uno ogni 18.000 nati vivi, e dipende dall'incompleta differenziazione cellulare dello strato granulare della retina. È considerato di origine congelita. Nel 10% dei casi esiste familiarità. Può essere bilaterale, 30%. Oltre a propagarsi per contiguità allo scheletro del tranio e della faccia, può dare localizzazioni osse secondarie a distanza attraverso il flusso sanguigno. Le metastasi sono rare e si localizzano soprattutto alla metafisi delle ossa lunghe, dove determinano alterazioni osteolitiche simili a quelle del linfoma maligno e del neuroblastoma. Nelle fasi più tardive si possono avere fenomeni reattivi per gli ostei di tipo labinale.